Buongiorno a tutte e tutti e grazie mille per avermi coinvolto in questa interessantissima discussione. Io in accordo con Matteo avevo deciso di provare a farmi stimolare dagli interventi della mattina e quindi non ho preparato un intervento strutturato. Il problema è che sono stato iperstimolato da quello che è stato detto stamattina e quindi sarà veramente molto difficile riuscire a concentrare tutti i pensieri e le immagini che ho avuto diciamo ascoltando. A partire in realtà ora io sono stato chiamato qua come storico e prima è stato dato addirittura l'appellativo di professore ecco io scappo nel senso che ho un approccio abbastanza particolare alla disciplina storiografica e faccio fatica a inserirmi a casellarmi in un processo specifico ed è perché dico questo perché in realtà la prima stimolazione che ho ricevuto è stata legata ai processi di rigenerazione urbana di cui hanno parlato proprio a inizio mattina al villaggio artigiano che è stato rigenerato e che individua nei processi di rigenerazione urbana comprendere una collettività e un suo modo di esprimersi e di affrontare il passato e il presente. Perché sono stato stimolato da questo? Perché in realtà io stesso per tanti anni ho lavorato a un progetto di rigenerazione urbana, manco farlo apposta anche questo afferente a un'ex officina di riparazione treni quindi la condizione è veramente molto simile a quella descritta da Dovestlab e in quella circostanza ho potuto sperimentare la produzione di un workshop interdisciplinare che si intitolava Torniamo alle fonti dove praticamente l'ambiente che stavamo rigenerando che appunto era un'ex officina di riparazione treni e notti della dimensione di 20.000 metri quadrati era un ambiente gigantesco all'interno del quale c'era tutta una serie di officine artigiane che abbiamo rigenerato negli spazi e nei materiali e nei macchinari e poi un'altra parte di quello spazio era di vita a ospitare un co-working più classicamente inteso abitato da professionisti di varia natura a un certo punto io guardandomi intorno mi sono reso conto che intorno a me c'erano c'erano io come storico c'erano dei fotografi c'erano dei giornalisti e mi sono detto che ognuno di questi lavoratori alla fine ha alla base del suo mestiere l'analisi e l'utilizzo di fonti e la cosa mi ha incuriosito molto perché lo storico sì come giornalista lavora sulle fonti anche se lo fa probabilmente da come posso dire punti di vista o comunque posizionamenti differenti dall'altra parte il fotografo è un produttore di fonti e quindi mi sono chiesto ma è come 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 lo si può affrontare questo tema allora abbiamo organizzato appunto questo workshop che si titolava torniamo alle fonti dove una serie di professionisti del giornalismo è una giornalista di repubblica viola giannoli è un esperto di fotografia che è nazaro dal poz che è stato il foto editor di espresso per moltissimi anni è un esperto di storia orale che ora mi sfugge il nome dopo mi verrà perdonatemi e abbiamo provato appunto a ragionare su come vengano utilizzate le fonti e quali possono essere i loro significati da questo poi abbiamo realizzato un prodotto perché non ci siamo fermati ad un apparato didattico abbiamo voluto provare a realizzare un prodotto e questo prodotto è stato una mostra multimediale che aveva deciso di mettere in scena le fonti di queste c'erano appunto fonti fotografiche fonti d'archivio classica e poi le fonti orali che sono un po il tema di stamattina le fonti orali noi siamo andati a cercare i racconti io non sono uno storico orale e tra l'altro è una disciplina che non maneggio la osservo con cautela perché ne sono incredibilmente affascinato ma ho la sensazione proprio che mi manchino delle competenze umane per riuscire a procedere all'interno di un'intervista di storia orale quindi osservo chi lo fa e cerco di capire quali siano le interazioni che si che si creino e quindi di conseguenza quale sia poi il prodotto che si realizza e noi andammo a intervistare appunto al centro anziani del quartiere andammo andammo a intervistare il parroco andammo a intervistare i vecchi abitanti i vecchi e nuovi abitanti del quartiere perché poi tutta la mostra realizzammo su un quadrante urbano di Roma specifico che era quello Casalbertone, Tiburtino e Portonaccio. Le fonti orali divennero immediatamente il filo portante di tutta la narrazione della mostra. Fu immediato questo processo perché appunto la possibilità di sentire un racconto per quanto strutturato attraverso una metodologia specifica quindi non come se lo fosse andato io a ricostruire quel racconto ma fatto da chi sapeva fare un'intervista nel modo metodologicamente corretto si componeva però appunto una narrazione che coinvolgeva tutte le altre fonti. Era proprio un qualcosa che quasi si poneva al di sopra ma non tanto per il valore ma proprio per la capacità esplicativa e narrativa. Oggi più di una volta è emerso questo termine della narrazione, è emerso in senso critico, giustamente hanno fatto notare come anche gli storici applicano processi di questo tipo ma non lo dicano e questo è vero ma non solo, lo storico fa anche altro che spesso fa fatica ad ammettere di compiere come azione ed è un qualcosa che invece probabilmente è connaturato, è naturale ed è abbracciato in maniera spontanea dei processi della storia orale. Questo mi ha fatto pensare per esempio a They Shall Not Grow Old, il film di Peter Jackson sulla prima guerra mondiale, non so se avete avuto modo di vederlo, è un documentario che Peter Jackson ha realizzato unicamente utilizzando fonti storiografiche. Ha preso le immagini prodotte dalle compagnie inglesi sul fronte tra Inghilterra, Francia e Germania, sul fronte e dalla parte inglese, ha preso le fonti audiovisive, le ha digitalizzate e questo è un altro tema centrale della giornata di oggi che mi tocca direttamente, le ha digitalizzate e non si è limitato a questo, le ha ricolorate. Quindi ha ridato colore al bianco e nero, non solo, le ha risonorizzate. Quindi ha creato una modificazione importante della fonte. Come ha fatto? Per ricolorarle è andato nei luoghi dei combattimenti ripresi dalle immagini nello stesso periodo in cui erano state girate quelle immagini e ha cercato di ricostruirsi una palette, praticamente, una tavolozza osservandosi intorno, quindi guardando i colori che c'erano nella natura. Per quanto riguarda le divise, fortunatamente sono conservate in diversi apparati museali e quindi la colorazione della divisa era facilmente replicabile. La risonorizzazione è avvenuta invece attraverso degli esperti di lettura delle labbra, così come hanno lavorato sulla ricomposizione di suoni, quindi il carro armato che passa, la bomba che esplode, il rumore del mestolo sulla gamella. E tutto ciò compone un processo di narrazione che ti porta direttamente dentro la storia, perché te in quel momento stai fruendo un racconto solo attraverso delle fonti. Ma qual è ciò che rende la cosa ancora maggiormente intellegibile a uno spettatore qualsiasi? Una voce fuori campo. Una voce fuori, anzi più voci fuori campo. Di chi sono queste voci fuori campo? Queste voci fuori campo sono dei reduci militari inglesi intervistati dalla BBC, se non ricordo male, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. Quindi sono tutte fonti orali, recuperate e riutilizzate all'interno di questa enorme e incredibilmente stratificata narrazione come appunto filo conduttore di tutto questo processo. Senza quell'intervento orale, senza queste costanti voci fuori campo, sarebbe stato molto più difficile riuscire a leggere il prodotto, per quanto un prodotto fatto con tutti i grismi di una grande produzione. Però sarebbe mancato qualcosa. Ed ecco quindi che la fonte orale consente una comprensione, un'interazione più profonda e più semplice forse, con la complessità della storia. C'è da dire una cosa. Io sono, diciamo, convinto, sostengo, il pensiero di alcuni filosofi o pensatori della storia, come anche Schmitt, ma lo stesso Topolsky, poi sicuramente a partire da White, sull'idea che ogni fonte storica in realtà si presenti a noi come un complesso narrativo. Cioè la fonte storica di per sé è un racconto, a prescindere dallo storico. Questo fa sì che già le diffidenze verso la narrazione in qualche modo, come posso dire, possano essere decostruite. Ogni fonte storica, faccio una precisazione, che cosa si intende, almeno che cosa intendo io per fonte storica, per me una fonte storica è ogni traccia che l'essere umano è stato in grado di lasciare nel suo passaggio. Ed esistono a prescindere dallo storico. Poi lo storico che cosa fa? È in grado di recuperare alcune di queste tracce, di leggerle, di comprenderle, di spiegarle, di ricostruirle all'interno di un discorso. E quindi di compiere spiegazione e narrazione. Tutto ciò che non rimane come traccia, quindi quello che l'essere umano non riesce a lasciare come traccia, per me è passato. Quindi la distinzione per me, il passato è ciò che non ha una traccia, la storia è la fonte stessa, la storiografia è l'apparato narrativo, o diciamo di racconto, fatto attraverso una metodologia specifica, che viene composta dallo storico. Quindi io individuo così, per semplificarmi il ragionamento, distingo in questi termini. Che cosa succede quindi? Quando si ha di fronte una fonte, si ha di fronte un elemento narrativo, che lo storico, da sempre, osserva, analizza, critica, compara con altre fonti, e poi utilizza per andare a comporre storiografia. Ad oggi, grazie ai metodi della public history, e grazie alla digitalizzazione, è molto più semplice riuscire a innescare un processo all'interno del quale la fonte storica possa diventare direttamente elemento intellegibile del discorso. Che se ci pensiamo è quello che ha fatto, quello che viene fatto con The Channel Gold di Peter Jackson. è solo le fonti che si presentano all'interno di un discorso. Perché ci sono gli audiovisivi, ci sono le fonti orali, ci sono i documenti, ci sono delle fotografie, lo storico lì in qualche modo quasi scompare. Il lavoro dello storico è stato quello di ritrovare queste fonti e insieme, in quel caso, a dei copywriter, dei registi, dei creativi, comporre un processo narrativo specifico. Questo, secondo me, ci deve far riflettere sul rapporto tra storia e storiografia, per come lo possiamo osservare oggi, considerando che, secondo Kozelek, Kozelek, la storia è comprensibile solo all'interno del suo medium. E il medium della storia è il documento. E di conseguenza, se io riesco a mettere in scena il documento, rendo la storia realmente comprensibile. E non ho più bisogno, o quantomeno ho un bisogno differente, dell'azione dello storico. Ora, la fonte orale, salvo che io non mi sbagli, è la rappresentazione massima di tutto ciò. Perché la fonte orale si differenzia dalle altre fonti in quanto non ha un medium specifico di appartenenza se non l'essere umano, il linguaggio. Quindi non è su un foglio di carta, non è su della pellicola, non è su un supporto digitale, cioè viene portata su un supporto digitale. Però si esprime attraverso l'essere umano. A differenza delle altre fonti, lo storico indaga le altre fonti in una relazione diacronica. Mentre con le fonti orali lo storico indaga quella fonte in una situazione sincronica. E questo anche proprio dal punto di vista del linguaggio. Perché quando uno storico osserva una fonte di 80 anni fa si confronta con il linguaggio di 80 anni fa. quando uno storico orale attraverso un'intervista va a ripescare un evento del passato ma questo evento del passato viene rielaborato e rinarrato attraverso il linguaggio del contemporaneo. Quindi il rapporto con la fonte muta completamente ma la fonte si manifesta nel presente come rappresentazione stessa del passato o meglio della storia. e può essere per questo appunto osservata, criticata e utilizzata all'interno di un processo narrativo molto specifico. Alla fine del Settecento si cercava di trovare un termine, una parola che fosse in grado di riportare all'interno dello stesso spettro semantico storia e storiografia. proprio perché si capiva che probabilmente questa differenza era molto importante da un punto di vista metodologico ma era anche possibile superarla in qualche modo. Ed è quello che oggi sta avvenendo perché se io metto in mostra la fonte che ho detto per me essere elemento unico della rappresentazione della storia e io la metto in scena allora sto componendo storiografia con la fonte allora forse tra storia e storiografia davvero posso riuscire a eliminare la distanza e credo che questo sia credo perché ripeto non lo so però credo che questo sia qualcosa che avvenga con la storia orale perché mi piaceva provare a a riannodare questo discorso che spero sia possa essere stato chiaro perché veramente sono stato iper stimolato da quello che è stato detto quindi rispetto alle possibilità della digitalizzazione e della costruzione di archivi digitali dove in tutto ciò chiaramente in quello che chiunque ha parlato oggi prima mi sono rimasto molto colpito quando Matteo ha parlato se non ho capito male di sintassi dialogica giusto Matteo che va a osservare il rapporto tra i dialoganti quindi va a cercare di capire come si struttura il dialogo tra chi sta facendo le interviste chi sta rispondendo e attraverso questo si riesce a comporre un ragionamento che attribuisco tolga senso a ciò che viene detto giusto? perché mi ha colpito moltissimo questo? perché in qualche modo si avvicina al concetto di spiegazione che è l'altro termine che lo storico fa fatica a maneggiare perché ha quasi paura che ciò vada a limitare il portato epistemologico della sua disciplina ossia al contesto che lo storico struttura necessariamente ogni volta che compone un'analisi comparativa tra le fonti e di conseguenza produce un apparato storiografico questo contesto è fatto di significati e questi significati in qualche modo non in qualche modo questi significati chiaramente sono intelligibili sono parole e quindi sono elementi del discorso che possono essere compresi ecco un archivio digitale attraverso i metadati ti consente di poterti approcciare in maniera assolutamente innovativa all'attribuzione di significato alle fonti io dico innovativa per uno storico perché ho la sensazione che in realtà gli storici orali questa cosa la facciano già da un po' di tempo ma che anche questo non l'abbiano mai realmente detto ma in qualche modo fossero già avanti diciamo da questo punto di vista per uno storico invece è una grande novità e non sono neanche sicuro ci sia tutta la volontà di accettarla questa novità il metadato chiaramente ha una natura descrittiva in prima istanza quindi si individua una data un nome un riferimento un evento questa è la base necessaria per costruire un sistema di archiviazione che possa essere compreso per chiunque ma dall'altra parte i metadati consentono ad oggi di andare a lavorare anche appunto su dei termini che carichino di informazione e di significato la fonte digitale che viene archiviata e questo sposta in maniera molto importante il rapporto che ci può essere tra il fruttore e la fonte dico fruttore perché secondo me questo consente che la fonte storiografica digitalizzata all'interno di archivi digitali possa essere fruita anche da chi non è uno storico in maniera molto più semplice rispetto al dovere entrare all'interno di un archivio materico dove appunto ci sono una serie di complessità proprio strutturali e la ricerca non si può in nessun modo basare su un ordine di significato mentre i metadati possono essere assunti di significato dallo storico o dai metadatisti questo comporta la possibilità di e per questo mi ricollego alla storia orale perché quando si fa un'intervista secondo me un po' può avvenire questo di produrre spiegazione prima della narrazione se lo storico normalmente produce spiegazione quando compone il processo narrativo se io vado a metadatare fonti digitali attraverso parole di significato parole di significato intendo dire concetti che abbiano un significato intellegibile comprensibile in relazione alla fonte ma anche in relazione alle persone io sto inserendo quella fonte all'interno di un contesto un contesto di significato molto specifico attraverso poi gli RDF le possibilità del web semantico posso costruire delle ontologie digitali all'interno degli archivi che consente di andare a costruire un discorso più complesso ma questo discorso nasce da una serie di significati che io ho attribuito a quelle fonti quando si va a fare un'intervista non lo so magari sto dicendo una castroneria tremenda però come la sensazione che possa avvenire un processo in cui appunto la spiegazione quindi il significato il contesto emerga quasi prima del racconto orale come se fosse un'interazione precedente che poi trova forma e sostanza attraverso il racconto orale ecco quindi l'archivio digitale può diventare quasi un archivio autoesplicativo che si basa sui funzionamenti chiaramente informatici dei metadati ma dall'altra parte dei funzionamenti quello che Sussurp definiva tra la differenza tra langhe e parole non siamo lontani da tutto ciò e tutto ciò avviene già all'interno dei testi degli storici è quello che viene definito come il savoir dello storico o i belief dello storico che sono presenti in ogni processo narrativo storiografico tutto ciò può avvenire già in un archivio dove la fonte diventa elemento primo elemento del discorso storico e quindi crea una ricucitura tra storia e storiografia ecco credo che tutto ciò la storia orale anche se non lo esprime ma era eccessivamente esplicita forse ci sia arrivata già da un po' di tempo e che stia lavorando su questi temi in modo molto interessante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti